E' stato presentato questa mattina a Vasto il progetto Informazione di Opes, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che prevede l'organizzazione di corsi di formazione sulle tematiche del mondo dell'associazionismo sportivo e del terzo settore. I corsi saranno fruibili gratuitamente da parte di associazioni, piccole e medie imprese e singoli cittadini, con il rilascio, ove previsto, di attestato di frequenza o formazione. Questi corsi sono rivolti intanto alle associazioni, ma non soltanto associazioni sportive, a tutto il mondo del volontariato e del terzo settore in modo più ampio. L'obiettivo è quello di fornire sempre strumenti più consapevoli, più utili per erogare un servizio completo e più cosciente di quello di cui si ha bisogno sul territorio e quindi dell'utente finale. Siamo contenti di poter ospitare questo progetto finanziato dal Ministero del Lavoro in Abruzzo, per questo ringrazio Opes nazionale per aver riconosciuto i risultati che qui in Abruzzo abbiamo raggiunto negli ultimi due anni di attività di Opes. Nel corso dell'incontro è stato presentato il palinsesto dei corsi che saranno attivati nell'ambito del progetto. Si parte con quello dedicato al primo soccorso. Un progetto di formazione, informazione, aggiornamento in ambito manageriale, culturale, sportivo, di terzo settore a tutto tondo. Dal 2017 le riforme dello sport del terzo settore, servizio civile e protezione civile hanno aumentato, alterato il fabbisogno formativo all'interno delle organizzazioni e movimenti di base. C'è stata poi una pandemia, oggi abbiamo una guerra, i bisogni cambiano, già la società in modo fisiologico diciamo che questi boost hanno alterato ogni equilibrio. C'è bisogno che i corpi intermedi come l'Opes e gli organismi sportivi e quelli del terzo settore si mettano a disposizione della pubblica amministrazione per sostenere quelle competenze che in chiave sussidiaria il terzo settore mette a disposizione per andare incontro ai bisogni dei cittadini. Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro e il sindaco di Vasto Francesco Menna.